Quante volte sentiamo parlare i grandi dirigenti italiani di dobbiamo aprire un ciclo, lo vogliamo fare con un allenatore, vogliamo arrivare a dare continuità ai risultati. Per riuscire in questo bisogna avere la pazienza che in Italia manca. In questa settimana è ripreso il cosiddetto waltzer degli allenatori, che è uno dei waltzer che tutti aspettano a fine campionato. Non ci si accontenta di quello che abbiamo, ci si annoia facilmente della faccia che si lega ad una squadra piuttosto che all'altra. Ed ecco che inizia nuovamente il waltzer, il waltzer che coinvolge tutti. A partire da chi vince il torneo, malgrado sia campione d'Italia, Antonio Conte non è detto che resterà alla guida dell'Inter dopo aver dominato il campionato. Pensate un po', lui che ha vinto il campionato e che si diceva dovesse aprire un ciclo nella squadra dell'Azzurra. Appena due anni, con fallimento totale in Champions League, ha vinto un solo campionato e il ciclo si chiude, non si va più avanti. Ma questo è solamente uno. Pensate anche al Lazio. La Lazio, ad esempio, aveva avviato un ciclo con Simone Izzaghi che interrompe. Quindi una delle poche squadre che stava riuscendo ad essere squadra, anche in virtù di questo, ecco che abbandona. Arriva Sarri, sperando che Sarri non abbia la stessa continuità che gli è stata concessa la Juventus. Ha vinto lo scudetto, però se per Pirlo vale una Coppa Italia, per Sarri non valeva uno scudetto perché aveva avuto troppo poco e soprattutto aveva fallito in Champions. E parliamo anche delle piccole squadre che si contengono poi tutto quello che rimane. Chiaramente dobbiamo continuare con Seissau verso Napoli al posto di Gattuso, dovremmo continuare con i dubbi che riguardano altre squadre. Insomma, in Italia, a differenza di quello che succede negli altri paesi, noi non teniamo un allenatore per massimo due anni. Sono delle eccezioni quelle che abbiamo visto recentemente. E curiosamente, durante le eccezioni abbiamo visto anche arrivare dei risultati, perché in quelle eccezioni i risultati sono arrivati. Possiamo parlare ad esempio di De Zerbi con il Sassuolo, i risultati sono arrivati. Lo stesso Simone Inzaghi abbiamo citato prima con la Lazio e i risultati sono arrivati. Insomma, se tu dai continuità a un progetto, è molto più probabile che quel progetto non ti paghi magari il primo anno, ma ti paghi il secondo. È probabile che dopo un ciclo di sconfitte, se tu lavori con il tecnico e lavori per avere i giocatori giusti, possa riuscire a modificare le cose. Insomma, nel calcio italiano ci si lamenta sempre del fatto che manchino i soldi, poi alla fine scopri che ci sono mille sperperi. Gli sperperi legati al fatto che ci si annoia, che abbiamo bisogno di un nuovo amante, che non ci accontentiamo più della solita faccia. Al primo difetto, al primo successo, prendiamo e buttiamo via.